Anche questa mattina lunghe code l'hub vaccinale di Porta Nuova a Pescara, mentre solo ieri più di mille persone si sono prenotate per fare i tamponi lato Tribuna Maiella dello stadio triatico Cornacchia. La diffusione della variante Omicron spaventa e con l'arrivo delle feste di fine anno si cerca di adottare tutte le misure possibili per non correre rischi. In più, solo a Pescara città, 213 casi registrati dal 24 al 26 dicembre, 378 se si tiene conto anche dei giorni dal 20 al 23 compresi. Il sindaco Carlo Masci, su sollecitazione della stessa aslo di Pescara, lancia un appello alla popolazione. L'appello è di stare insieme in famiglia i congiunti più stretti perché qualsiasi allargamento può provocare un aumento dei contagi e noi questo dobbiamo evitarlo. Per quanto riguarda l'app vaccinale, quello spazio viene utilizzato su prenotazione, invece in questi giorni molte persone stanno andando a farsi il vaccino senza prenotazione e quindi si creano delle file che non sono giustificate. Per quanto riguarda i tamponi sta succedendo la stessa cosa. Noi abbiamo l'hub dei tamponi allo stadio, anche lì le persone arrivano in massa. Ieri pomeriggio soltanto ci sono state 1070 prenotazioni, un numero mai verificato, sì, considerato il fatto che ci sono le farmacie che stanno facendo tamponi da giorni e giorni con file lunghissime. Purtroppo ci troviamo in una fase in cui il virus è ancora molto attivo anche se non come in passato in maniera anche letale e quindi i vaccini hanno funzionato, continuano a funzionare. Io invito tutti i cittadini comunque a vaccinarsi, ma a stare attenti perché le mascherine, il distanziamento, la pulizia sono ancora gli elementi fondamentali per tenere distante il virus.